Ci siamo quasi, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatori. Fabio Caressa e Luca Marcheggiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Vittor Valdez difenderà i pali. Koeman, Piquet, Puyol, Sergi, Guardiola, Xavi, Ronaldinho, Harry, Cruyff, Maradona. Andiamo via alla partita. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Xavi. Con la sua visione di gioco e i suoi passaggi sarà un giocatore fondamentale in questa partita. È un grandissimo regista e con gli anni sembra addirittura migliorare. E sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Dunque, rimessa laterale. Cross di Guardiola. Cruyff. È grande l'occasione che si sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Prova la giocata dello spazio. Può cercare il taglio in mezzo. C'è il cross. E purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. C'è la palla lunga in avanti. Ribéry di forza. Close. Piqué con l'intercetto. Ben fatto. È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Close. L'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova il filtrante. Bel pallone. Solta e colpisce di testa. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. La mette sulla sinistra. Ronaldinho. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Vuole la profondità. Tocco preciso. Intercetta il passaggio. Pericolo. Passaggio in avanti. Effetto. Un passaggio lungo. Occasione. Che passa. Il portiere dice di no. Passaggio in balzo. Ed ecco la cross. È sopra a fine di Maradona. Ed è il primo gol della gara. Gol di grande opportunismo sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha sbagliato ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. 1-0 dunque. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno lui c'è. Guardiola. Prova la giocata dello spazio. È riuscito a passare. Intervento al limite. Ma mi è sembrato regolare. Ronaldinho. Passaggio smarcante. Ora deve segnare. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Intervento chiaramente falloso. C'è il secondo cartellino. Ma che ingenuità. Che ingenuità. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta. E bisognava provare. Proprio possa regalarci grandi emozioni. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco. Come se fossero ancora solo 0-0. Henry. E c'è una palla filtrata. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Puyol. Prova la giocata nello spazio. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravo. Cerca la profondità. Pronto al tiro. Koeman. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. E trova bene il compagno. Si avvicina la porta. E il pallone finisce in rete. Romario. Ribéry. La gioca sulla destra. Ecco Toni. Prova il filtrante. Si libera la grande. Prova a tirare. Cerca una soluzione con la palla lunga. C'è il dai e vai. Robben. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata distinto questa. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. C'erano diversi compagni pronti là davanti. Il cross però è stato impreciso. Romario. La gioca a sinistra. Se ne va. Bell'intervento difensivo. Lam. Ci mette il piede. E con questo è il pallone. Ecco Rivaldo. Questo è fallo. Non ha dubbi l'arbitro. Tiro. Vuole la profondità. Eto ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Lam. Bella rete di passaggi. Ciavi. E passa. E l'arbitro dice che può bastare. Si chiude dunque con un pari. I tifosi hanno assistito a un bello spettacolo. Nessuno però è riuscito a prevalere. Grazie. Grazie.